Allora, mi hanno già chiamato? No, sei il prossimo. Che, vuoi la mia cravatta? Ah, grazie. Uff, anche la forza. Ma scusa, c'è shampoo Claire. Lo uso sempre anch'io, funziona. Claire? Però, questo è Claire. Oh, carino qui. Ehi, ma questa la conosco. Già, è tanto che devo rendertela. Ormai è mia. Anche il tuo Claire, ormai è mio. Lo uso sempre, funziona. Oh, là. Shampoo Claire funziona contro la forfora regolarmente.